Ho accettato con molto piacere l'invito di Isola Ursa a partecipare al vostro evento che mi sembra di estremo interesse. Ho creato un istituto che si chiama l'Istituto Europia, Europia dell'intelligenza artificiale, per sensibilizzare il grande pubblico ma soprattutto i giovani all'importanza dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché è attraverso l'intelligenza artificiale che noi potremo risolvere molti dei problemi che noi abbiamo nel nostro mondo, soprattutto tutto quello che riguarda la situazione climatica. E per sensibilizzare quello che stiamo cercando di fare è di dare degli esempi concreti di che cosa si possa arrivare a fare con l'intelligenza artificiale. Immaginatevi voi la laguna di Venezia. Come in Venezia e così in tanti altri porti, i pescatori lasciano molte delle loro reti. Reti che si mettono nel basso creano grossi problemi. Bene, attraverso dei satelliti stiamo cercando di identificare dove si trovino queste reti. Attraverso delle compagnie specializzate riprendiamo queste reti, le riportiamo a galla e poi ci sono delle compagnie che rilavorano queste reti. Rilavorando queste reti creano un prodotto particolare che poi viene non solo liberato il mare ma viene utilizzato per fare delle opere d'arte. Potete immaginare quindi e comprendere l'importanza che ha questa intelligenza artificiale. Perché è attraverso l'intelligenza artificiale che modificheremo il nostro modo di lavorare, il nostro modo di comunicare, il nostro modo di educare. E sempre di più dovremo dare degli esempi calzanti significativi per far comprendere che anche il nostro clima, le problematiche che noi come uomini creiamo nel nostro universo possono essere risolte attraverso l'utilizzo delle tecnologie nuove. Grazie, buon evento.